Sì 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 Guarda quello adesso mi hai scherzato Eh beh Ho perso porca puttana Vabbè il GTS ci ha Prego l'arpa e si attacca con l'arpa No vabbè Il 360 moda non ci ha rivali Anche se quello che gli apri gli fa una pippa Una voglia Ma che stai scherzando 360 moda ultima generazione Pronti? Se riesci a accostarti a lui Faccio un po' una aperta Gli dici A quella con 360 Ancora l'arculetto Quell'arco è stato così presso Ma che è passato Ma cazzo ci ha accosto Ah stanno i gini Hai visto hai visto Si sono attaccati Guarda Si sono attaccati Si sono attaccati Troppo bello Hai visto come si è attaccato Quello con il GTS E dai ripia tiè Ma hai visto si sono attaccati Lui fa la guidata Dai ripia dai No No vabbè